secondo te si poteva resistere fino al 94 giugno? ma si perché stavamo difendendo veramente bene poi una disattenzione in difesa abbiamo perso un uomo e purtroppo ci siamo presi questa guarda beh va bene succede però uscire dopo un pareggio contro una squadra importante costruita per vincere e sotto gli applausi dei nostri tifosi che gridavano leoni, leoni come nei momenti migliori nella storia del Bertona te lo garantisce uno che dalla storia del Bertona se ne intende tanta roba eh sì, fossimo riusciti a prendere i tre punti sarebbe stato veramente un grande passino avanti non ce l'abbiamo fatto però un punto lo portiamo lo stesso a casa con questa grande squadra e prendere gli applausi dei tifosi è sempre bello alla fine partita e andiamo avanti tutti grazie Berto, grazie per la bella partita che hai fatto adesso testa bassa andiamo a Sanzana a fare il risultato grazie Berto va bene così aspettami si va bene così gliela mandi a Dome grazie così Dome poi pubblica sui nostri siti grazie a tutti